Oggi vedremo come si cucinano questi noodles buitoni che vanno fatti in padella in solo 6 minuti comprati al supermercato a 72 centesimi, due gusti al curry e al pollo. Sulla confezione c'è scritto importato da Nestlé Italiano S.P.A. Aperta la confezione ci troviamo davanti a queste bustine che sono il condimento e questi che sono i noodles che sono una specie di mattone secco, molto duro al tatto. Prima cosa prepariamo 200 millilitri di acqua che sono all'incirca un bicchiere. Versiamo l'acqua, poi la bustina che rappresenta il condimento e fa la differenza tra i noodles al curry e i noodles al pollo e infine un cucchiaio d'olio, almeno quello completamente italiano. Riscaldiamo per un minuto e andiamo a mettere il nostro mattoncino di noodles. Portiamo ad ebollizione e dopo l'ebollizione cuociamo per 3 minuti, ma a metà cottura rigiriamo così i nostri mattoncini, in maniera tale che si bagnino tutti quanti i noodles e con la forchetta, lavorando un pochettino, magari aggiungete un po' d'acqua se ancora non siete in grado di staccarli tutti completamente, fino a dividere i noodles e ad avere così una pasta asciutta orientale. Vediamo ora tutti i passaggi da fare riassunti secondo la confezione. Ricordo che se volete assistere agli assaggi in diretta di Migli Accendini basta seguire Migli Accendini su Periscope, ogni giorno mangerò completamente in diretta. Tutto quello che verrà mangiato da Migli Accendini avverrà in diretta a Periscope. Ragazzi se poi volete la ricetta della panzanella, pollice in giù, questa è Italia!